Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Elezioni amministrative anche a Spoltore, comune in provincia di Pescara con circa 19.000 abitanti. Gli eventi diritto al voto, secondo i dati del Ministero dell'Interno, sono 16.453. I cittadini possono scegliere tra quattro candidati sindaci. Chiara Trulli, centrosinistra più Movimento 5 Stelle, Marco Della Torre, centrodestra, Pierpaolo Pace, centrodestra, sostenuto in particolare dalla Lega, Nelson Anzoletti, candidato civico. Se nessuno di loro dovesse superare il 50% dei consensi, si andrà al ballottaggio previsto per il 26 giugno. Ma cosa desiderano i cittadini per la loro città, che tra l'altro farà parte della grande Pescara? Impiantistica sportiva per i giovani. E poi? Poi il piano regolatore, che sia un piano regolatore dove vengono rimessi al centro, che si riqualifichi i centri storici, soprattutto i nuclei storici. Quindi è una politica che salvaguarda il territorio. Moltissime cose ha bisogno. Cosa desidera per la sua città? Ma guardi, è un po' da migliorare il tutto, questo sportore. Mancano tante cose, speriamo che si risolva qualcosa. Un esempio di cosa manca? L'esempio principale è il mammut. Proprio che tanti anni, sono 40 anni, speriamo che stavolta, pensiamo che si risolva. Cosa vorresti per la tua città? Che si mantenesse così? Tutto qua.